niente panico un podcast galattico per umani curiosi oggi parleremo dei beni culturali bentornati a niente panico il primo podcast candidato al premio nobel per la letteratura ovviamente non è vero però noi ci crediamo e questo è il nostro obiettivo ciao a tutti ma come sempre non c'è una smentita quindi tutto quello che diciamo fondamentalmente è vero finché qualcuno non lo smentisce ciao bentornati telespettatori ciao prima di iniziare direttamente con la puntata facciamo una piccola comunicazione di servizio dalla prossima puntata in poi pubblicheremo una volta ogni due settimane non più una volta ogni settimana quindi sperando che non soffriate troppo per la nostra mancanza sappiate che dilateremo un po i tempi dopo questa mesta comunicazione passiamo all'argomento della giornata oggi andremo a trattare quello che è il concetto di beni culturali e ovviamente ce ne parlerà il più esperto tra noi francesco io partirei da un assunto la nostra costituzione è l'unica costituzione al mondo che nei suoi articoli fondamentali contiene un riferimento al nostro patrimonio l'articolo 9 della costituzione recita la repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione francesco dicci un po come siamo arrivati a questo punto fondamentale della nostra costituzione e della nostra identità allora sì per parlare di questo concetto che è un concetto spoiler abbastanza moderno abbastanza recente devo però partire da parecchi secoli fa infatti il primo concetto di tutela è un concetto possiamo dire religioso in quanto queste prime forme di tutela di un territorio di un luogo sacro si ebbero con gli antichi greci come sappiamo i loro templi erano fatti da da diverse stanze e quella più sacra era il naos dove addirittura i cittadini comuni non potevano entrare potevano entrare solo i sacerdoti perché era il luogo della divinità quindi era un privé per sacerdoti fondamentalmente sì c'erano festini fra sacerdoti e divinità a parte gli scherzi con l'avvento invece dell'impero romano si ebbe una maggiore complessità a livello giuridico proprio sociale e qui si sono si vedono già le prime forme di tutela le prime leggi di tutela ci sono arrivati degli esempi fino a noi c'è questo giurista ulpiano che ci racconta come le statue pubbliche cioè le statue commissionate da ricchi privati ma poste in luoghi pubblici diventassero automaticamente di dominio pubblico di proprietà pubblica con la caduta dell'impero romano si ebbe quel periodo in cui le vestigie antiche le architetture classiche furono abbandonate e ci furono anche quei movimenti diciamo negativi per quanto riguarda la memoria la cultura come quello iconoclasta in cui furono distrutte numerosissime opere religiose soprattutto nella parte della chiesa bizantina intorno all'ottavo e nono secolo in quei secoli ci furono anche cose positive come l'invenzione della pergamena che appunto è un sostegno molto più resistente su cui scrivere che sostituì il papiro che invece era un materiale molto più deperibile e quindi molti scritti antichi sono giunti fino a noi grazie anche a questo materiale però in tutto questo bisogna dire come dice il buon vecchio barbero che il medioevo non è un periodo scuro e barbaro in cui ci fu solo distruzione e malattia infatti ci furono figure come quella di francesco petrarca che quando visitò poi roma in uno dei suoi viaggi si innamorò delle vestigie antiche di questi palazzi di questi tempi ancora ruderi ma comunque visibili e quindi portò questa cultura dell'antico e della protezione dei monumenti antichi come forma storica di cultura di memoria in molti dei suoi scritti in molti dei suoi delle sue opere arriviamo poi al 1400 che è uno dei periodi più famosi e più fiorenti per la cultura italiana con il rinascimento e figure importanti come quelle di cosimo de medici hanno dato diciamo un bell'appoggio una bella base a quello che poi sarà la futura tutela dei beni in quanto soprattutto con un episodio la nascita della biblioteca di san marco nella quale donò molti delle sue collezioni librarie e potevano essere queste visitabili da tutti i cittadini fiorentini che ne facevano richiesta quindi in un certo senso creò la prima biblioteca pubblica aggiungo che fuori dall'italia abbiamo un esempio di conservazione dei beni culturali un po particolare perché nel medioevo nel 1200 c'era alfonso decimo detto il saggio che ha investito tantissimo nella traduzione al fine di conservare antiche opere arabe ed ebraiche sia appunto per conservarle per conservare queste opere che per dare prestigio alla lingua castigliana sì sì queste cose accadevano aggiungerei che anche alessandro magno secoli prima aveva attuato dei programmi diciamo simili sempre nel 400 anche a roma i papi attuarono delle forme di tutela per quanto riguarda i patrimoni storico artistici che fecero anche scuola nei secoli successivi anche se poi di contro ci furono bisogna dire anche dei papi che diciamo si fecero un po i propri interessi uno dei più famosi è giulio secondo che si fece costruire questo giardino del belvedere ancora oggi presente in vaticano dove posizionò la sua immensa collezione di opere classiche tra cui laoconte o il busso del belvedere che prende proprio il nome dal da dove era collocato che però potevano essere visti solo da pochi eletti quindi in un certo senso li tolse dalle disponibilità della popolazione mentre il suo successore papa leone decimo nominò raffaello che era uno degli artisti di punta della sua corte nel 1515 come ispettore generale alle belle arti e famosa nel 1519 è la lettera ridatta da baldassarre castiglione sempre con raffaello in cui appunto chiedevano al papa di poter creare un organo che potesse tutelare le opere romane le opere classiche in territorio vaticano quindi poterle in un certo senso tutelare scavare loro che diciamo le conoscevano e quindi le potevano apprezzare toglierle dalle mani di magari tutti quelli che invece le potevano andare a scavare solo per fini economici sempre in quei in quegli anni in vaticano c'era anche insomma la ricostruzione della nuova basilica vaticana iniziata appunto da giulio secondo nei primi del cinquecento è andata avanti vabbè poi per tutto il seicento è interessante vedere anche una figura come quella di tiberio alfano un storico dell'arte del cinquecento che mentre c'era la demolizione dell'antica basilica costantiniana si adoperò a creare un rilievo una pianta dell'antica basilica proprio per mantenerne la memoria e tramandarla ai posteri sempre nel cinquecento ci fu un avvenimento importante come quello della controriforma cattolica innescata dalla riforma protestante in cui molti libri protestanti furono messi al bando e quindi bruciati in pubblica piazza c'è da dire che ci furono però anche figure cattoliche che nonostante queste leggi cercarono di tutelare di nascondere libri che erano stati messi al bando per quanto riguarda la riforma e la controriforma è interessante vedere un po due due facce della conservazione del bene perché penso che chi sosteneva la riforma sosteneva che il bene in un certo senso in quel caso la bibbia fosse meglio conservato se tramandato se tradotto e reso accessibile a tutti mentre la chiesa con la controriforma sosteneva che la bibbia dovesse rimanere soltanto scritta in latino e secondo loro probabilmente quello era il modo giusto di conservarla beh sicuramente quello era un modo per la chiesa cattolica di mantenere anche un potere sul popolo che non conoscendo il latino loro insomma potevano fare quel un po il buono e il cattivo tempo su quello che c'era scritto sui testi sacri arriviamo nel 600 che è un secolo importante per quanto riguarda i musei perché in un certo senso nasce il museo in senso moderno infatti nel 1597 famosa la donazione da parte di domenico e giovanni grimani che erano due nobili di una nobile famiglia appunto veneziana che donarono la loro collezione di statue di famiglia alla biblioteca marciana dove sono ancora oggi esposte e aprirono questo piccolo museo questa piccola collezione alla cittadinanza nel 1618 invece il cardinale federico borromeo fondò l'accademia ambrosiana e fu la prima accademia creata apposta per la formazione degli artisti quindi gli artisti potevano andare lì ad imparare il mestiere arriviamo rapidamente al 700 dove in italia si afferma il principio che il patrimonio delle opere d'arte ereditato dal passato sia un bene pubblico quindi si afferma quel quel principio fondamentale giunto fino a noi in cui le opere d'arte hanno un forte legame con i loro luoghi di origine infatti nel 1720 scipione maffei un importante nobile di verona fonda il museo delle iscrizioni quindi con opere lapide ritrovate solamente nel territorio di verona non potevano essere accettate diciamo opere che venissero da territori esterni perché dovevano raccontare in un certo senso la storia di quei territori anche carlo borbone che nella fine del 700 inaugura gli scavi a pompeia ed ercolano emanò degli importanti decreti nei quali era scritto che tutti i reperti archeologici ritrovati non potevano uscire dal regno di napoli erano di proprietà del regno di napoli cosa che oggi purtroppo non avviene ci sono notizie attuali di furti ai danni delle opere di pompeia ed ercolano con scavi abusivi bisogna però dire che fino a tutto il 700 non si era ancora affermata una terminologia specifica che potesse rappresentare i beni culturali come li intendiamo oggi e diciamo questo avvenne anche grazie ai pensieri innovativi derivati dalla rivoluzione francese appunto si affermò il termine di patrimonio patrimonio che era una parola che appunto abbracciava tutti questi oggetti tutti questi materiali tutte queste architetture e qui ovviamente si intendeva il patrimonio come qualcosa del della popolazione qualcosa dei francesi di tutti i francesi all'indomani delle campagne napoleoniche che avevano spogliato soprattutto i territori italiani di importanti beni di pregio artistico ci fu una conseguente presa di posizione da parte della collettività italiana e infatti anche una figura molto nota di artista come quella di antonio canova fu inviato dal papa a parigi dopo la caduta ovviamente di napoleone per trattare il rientro in italia di molte opere rubate e bisogna dire che riuscirò a rientrare in italia molte opere grazie all'intervento di antonio canova con il corollo invece dell'impero dopo la restaurazione quindi con napoleone terzo questo sentimento di proprietà dei monumenti questo sentimento nazionalista si fece sempre più forte infatti è simpatico l'aneddoto in cui proprio napoleone terzo cercò come alleata la regina vittoria donando voleva donare le tombe dei re plantageneti alla regina al popolo inglese ci fu una forte opposizione da parte dei francesi e questa cosa gli fu impedita quindi si vede come in questo secolo nell'ottocento il popolo già aveva più potere dell'imperatore stesso su i propri monumenti nazionali la questione del patrimonio si pone in maniera urgente dopo il 1861 con l'unità d'italia dato che l'italia era stata riunita in molto più tardi di tante altre nazioni come francia spagna inghilterra anche su questo diciamo piano legislativo dei beni culturali era molto indietro una prima legge importante è proprio del 1861 e fu emanata da francesco de sanctis che era il ministro della pubblica istruzione dell'epoca per la tutela dei beni librari con la fondazione della biblioteca nazionale di firenze che è ancora oggi insomma un istituto molto importante a livello nazionale bisognerà però aspettare ancora alcuni decenni invece per diciamo ampliare questo discorso di tutela per quanto riguarda i beni immobili e immobili e le opere d'arte e così via quindi diciamo possiamo riassumere l'ottocento l'epoca moderna dell'europa con un concetto di monumento che rappresentava in la potenza e diciamo l'importanza storica e culturale della propria nazione quindi diciamo queste prime leggi e questi primi decreti di tutela furono emanati sì per tutelare i beni ma anche per esaltare la potenza della nazione serviva anche a creare un'identità nazionale no si serviva il patrimonio culturale sì sì era proprio quello proprio la necessità di imporre la propria cultura e la propria memoria renderla più potente più forte delle altre nazioni ma anche crearne una condivisa all'interno della popolazione penso sì diciamo che era anche un modo per far sì che la popolazione si potesse rivedere in qualcosa in italia diciamo ho voluto dire questa cosa è l'urgenza perché essendosi unificata così tardi rispetto alle altre nazioni tanti passaggi le aveva saltati questo aspetto ha riguardato anche la lingua infatti l'italia era molto divisa soprattutto dal punto di vista linguistico e tutte le amministrazioni hanno cercato di creare un'unificazione anche imponendo uno standard per la lingua che è una cosa che però ha richiesto molto più tempo che poi questo discorso delle identità nazionali mi porta a pensare all'estremismo che si è raggiunto poi con quella che è stato lo sviluppo nel novecento delle ideologie nazionaliste mi viene in mente per esempio il fascismo che ha creato con i suoi monumenti tutta proprio una sua identità architettonica che appunto è andata a creare proprio questa rafforzare proprio la sua ideologia i suoi concetti ideologici e mi viene in mente un esempio simpatico che rivediamo ancora oggi purtroppo ad esempio in coreana nord dove ci sono questi musei questi musei statali questi musei nazionali in cui vengono vengono portati per esempio tutte quelle che sono i cimeli che i capi di stato stranieri vanno a regalare al dittatore di turno diciamo al capo di stato nord coreano e quindi ci sono queste cose che sinceramente spesso rasentano quasi il grottesco che però lì sono viste come simboli di grande prestigio perché appunto sono i simboli del grande onore del grande rispetto che i capi di stato stranieri hanno nei confronti del del regime nord coreano quindi c'è anche questa mitizzazione proprio del dei monumenti cioè questa mitizzazione dei dittatori attraverso i monumenti attraverso questi simboli diciamo sì questo tema è molto interessante intanto grazie per avermi detto la il simpatico esempio della corea del nord che non lo conoscevo però il fascismo ci si potrebbe quasi fare un puntata del podcast a parte perché l'architettura fascista riprendeva proprio l'architettura classica l'architettura romana per questo appunto sentimento di romanità ma è anche interessante vedere l'arte come nelle biennali più importanti appunto per esempio quella fondata nel 1895 quella di venezia in queste biennali artistiche veniva presentata una vera e propria arte di stato gli artisti più in voga contemporanei venivano indirizzati su un certo tipo di arte quindi è un argomento molto interessante questo arrivando diciamo a concetti invece più attuali possiamo parlare delle terminologie usate oggi diciamo la terminologia che si è sviluppato già nel corso dell'ottocento è quello come avevo già detto del monumento che è una parola latina deriva da una parola latina monumentum che esprimeva in realtà già in quell'epoca significati molto ampli che però erano significati che si riferivano soprattutto alla memoria funerare ai sepolcri quindi a qualcosa di comunque sacro invece nell'ottocento e nel novecento appunto si è sviluppato questo sentimento di una sorta di religiosità laica nei confronti dei monumenti molto più moderna e molto più vicina ai nostri giorni invece proprio la parola da cui siamo partiti cioè quella di bene culturale infatti è stata usata per la prima volta a livello ufficiale legislativo solo nella convenzione di dell'aia del 1954 era una convenzione dedicata alla protezione dei beni culturali distrutti in caso di conflitto armato ovviamente si usciva dalla seconda guerra mondiale e questo mi fa venire in mente tristemente che questo discorso è ancora attuale perché mi viene da pensare a quello che è successo in medio oriente con i danni che l'isis e il fatto hanno portato a tanti beni archeologici e storici che appunto si trovavano in quelle zone che purtroppo oggi sono andati perduti sì questo mi fa ripensare un po a quello che ha fatto la mafia in italia perché a un certo punto si è resa conto che poteva andare avanti all'infinito a uccidere magistrati o qualunque altro tipo di figura ma si è resa conto a un certo punto che una cosa che poteva danneggiare effettivamente in modo definitivo era il patrimonio artistico infatti a un certo punto hanno preso in considerazione l'idea di piazzare bombe proprio in in prossimità di opere artistiche questa era parte della loro trattativa tra virgolette con lo stato che poi non sappiamo esattamente come è andata a finire però fortunatamente non hanno arrecato ulteriori danni al nostro patrimonio artistico sì fortunatamente in italia queste cose non si sono più viste purtroppo come ha detto prima lorenzo succedono ancora in altre zone del mondo come appunto nel nelle zone del medio oriente con l'isis il termine bene culturale può assumere quindi una valenza semantica molto ampia e diciamo deriva da studi antropologici e partiva un po dal concetto di di cultura del degli studi antropologici che si sono occupati del concetto di cultura quindi si può dire che nel novecento la terminologia bene culturale nasce con una funzione istituzionale quindi per esempio in italia il bene culturale è qualcosa che viene tutelato dallo stato da un organo preposto alla sua tutela qui diciamo sorge però un nuovo problema cioè tutti quei beni cosiddetti liminari quindi sono quei beni che interessano piccole comunità locali quelli di nicchia esatto sono i beni di nicchia i beni culturali per pochi che però purtroppo non sono ancora tutelati e quindi diciamo si dovrà arrivare anche a livello legislativo a rendere in maniera sempre più paritaria la tutela dei beni culturali nel nostro territorio purtroppo questo oggi ancora non avviene però per tutto l'ottocento e per buona parte del novecento sono stati considerati solo gli oggetti materiali quindi le architetture le opere d'arte statue e pitture oggi si è arrivato però a un discorso molto più ampio sono entrati nella tutela anche i cosiddetti beni immateriali e questo è stato possibile in maniera diciamo precisa a partire dal 1989 grazie a forse il più importante istituto di tutela a livello mondiale che è l'unesco che ha emanato numerosi decreti numerosi numerose leggi a favore appunto di tutela di questi beni materiali infatti so che proprio qui all'aquila la nostra città sono stati dichiarati patrimonio dell'unesco nel 2019 quindi anche abbastanza recentemente la perdonanza celestiniana come anche la transumanza nello stesso anno poi è da annoverare naturalmente anche l'arte del pizzaiuolo scritto così proprio sul sito dell'unesco napoletano quindi la pizza nel 2017 sì sì sono molti i beni materiali tutelati in italia tra l'altro nozione diciamo d'onore bisogna anche ricordare che l'italia è la nazione con più patrimoni sia materiali che immateriali protetti rispetto a tutte le altre nazioni del mondo anche la seconda è la cina che ne ha pochi meno di noi però sappiamo bene insomma che la cina è molto più grande sono molti più di noi quindi orgoglio italiano anche qui e poi dobbiamo parlare dell'ultimo aspetto del bene culturale quindi abbiamo detto beni materiali beni materiali e poi beni paesaggistici in italia questo si è sviluppato all'inizio del novecento precisamente nel 1905 è nata una forma di tutela legislativa per i beni paesaggistici grazie a un evento ben specifico era quello di salvare la pineta di ravenna una pineta piuttosto famosa perché era stata annoverata in numerose opere letterarie volevano bonificare questa pineta e quindi questa sarebbe scomparsa e le numerosissime proteste da parte dei dei cittadini diciamo fecero cambiare idea agli organi di governo quindi il l'allora ministro dell'agricoltura lui girava promulgò una legge in favore della sua tutela un altro anno importante per la tutela e dei beni culturali in italia è quello del 1922 nel 1922 il ministro all'istruzione benedetto croce emanò una legge che consentiva la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico andiamo avanti in maniera un po rapida e si arriva al 1974 anno in cui viene fondato il ministero dei beni culturali e ambientali che negli anni ha assunto diverse denominazioni e infatti proprio con l'attuale governo ha assunto il nome di ministero della cultura ed è il ministero preposto alla tutela della cultura e dello spettacolo e la conservazione del patrimonio artistico culturale e del paesaggio i concetti del 1922 furono più volte ripresi e che confluirono alla fine nel 2004 in quello che oggi è il codice dei beni culturali è un codice diciamo che comprende tutte le leggi e tutta la legislazione tutte le regole a tutela del bene culturale in italia ed è composto da 184 articoli ed è diviso in quattro parti differenti quindi è strutturato in una maniera molto precisa e anche questo diciamo per me che sono storico dell'arte è un po un senso d'orgoglio nazionalistico perché un codice così ben strutturato è difficile trovarlo in altre nazioni quindi arriviamo diciamo al concetto attuale di bene culturale che è ben riassumibile nella definizione che ci dà l'enciclopedia treccani che adesso vi leggerò perché non ricordo assolutamente a memoria con tale termine si definiscono i beni che compongono il patrimonio culturale nazionale nei suoi svariati aspetti storico artistico archeologico architettonico ambientale etno antropologico archivistico librario e altri che costituiscono testimonianza di valore storico culturale si includono in questo ambito anche le attività culturali ossia quelle attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte un applauso alla treccani il nostro punto di riferimento per la vita grazie enciclopedia treccani comunque di tutto questo discorso la cosa che più mi ha colpito è quanto siamo all'avanguardia come come stato come italia nella tutela e salvaguardia dei beni culturali sia a livello legislativo sia poi nel pratico con quello che è il lavoro anche del del ministero dei beni culturali e questo ovviamente ci viene anche riconosciuto con quelli che sono i meriti che ci ci ha conferito e ci continua a conferire l'unesco e quindi ci dà risalto a livello mondiale a livello internazionale come hai detto siamo al primo posto al mondo come riconoscimenti unesco e quindi questo assolutamente è un fattore da rimarcare perché comunque è una tradizione come abbiamo visto secolare che ovviamente adesso ci porta a una situazione attuale di assoluto rilievo e importanza beh diciamo che sono d'accordo fino a un certo punto nel senso che l'italia è a un primato ma diciamo non grazie a noi generazioni correnti ma alle generazioni passate perché noi siamo stati molto bravi a creare una tutela dei beni culturali ma siamo molto meno bravi a creare una valorizzazione dei beni culturali cosa invece a cui riescono molto meglio altre nazioni europee o anche gli Stati Uniti anche con approcci completamente diversi dai nostri c'è stato un touring club che qualche anno fa ha fatto un sondaggio nel quale chiedeva sul suo sito alle persone l'indice di gradimento di cinque dei tre musei più importanti italiani cosa che avevano fatto anche in altre nazioni e l'indice di gradimento in questi musei italiani era circa il 30 per cento più basso rispetto a quelli di altri appunti di altri musei in altre nazioni e i punteggi minori si avevano non per il patrimonio in sé che ovviamente sappiamo che quello italiano è importantissimo ma per la valorizzazione di questo anche magari attraverso lo sfruttamento di nuove tecnologie quindi poca accessibilità nei confronti del sito poca accessibilità nei confronti di portatori di handicap quindi su tutti questi aspetti in realtà aspetti di valorizzazione in realtà secondo me l'Italia è ancora un po' dietro questo forse dipenderà anche dal fatto che abbiamo così tanto noi italiani che forse siamo un po' troppo abituati al nostro patrimonio e non ci rendiamo forse neanche ben conto di quanto invece debba essere valorizzato cosa che magari altri stati che hanno meno fanno di più proprio per questo proprio per cercare di colmare questo gap quindi forse noi ci rilassiamo anche un po' troppo su quelli che sono i beni che abbiamo e quelle che sono le possibilità che abbiamo e quindi non facciamo lo step successivo di cercare di appunto valorizzarle sì forse in Italia c'è ancora il retaggio un po' superato che la valorizzazione è per forza qualcosa di economico no la valorizzazione in primis qualcosa di culturale che però ha sicuramente risvolti economici di turismo del cosiddetto buon turismo in questo punto mi riallaccio anche all'UNESCO i patrimoni tutelati dall'UNESCO si è visto che portano a un incremento del 30% netto del turismo una volta che diventano patrimoni tutelati dall'UNESCO quindi è una pubblicità enorme e diciamo che questo in un certo senso è anche il vero potere che ha un'agenzia importante come quella dell'UNESCO sì perché poi la funzione principale dell'UNESCO è questa in realtà cioè dare risalto e rilevanza a specifici patrimoni culturali piuttosto che altri giusto cioè non si occupa di molto altro in fondo beh sì sicuramente è un aspetto l'altro però è quello proprio di tutela diciamo che per entrare nell'elenco UNESCO è molto complicato è molto complesso ci vogliono anni le candidature sono molto complesse hanno bisogno di molte pubblicazioni di molti studi per poi essere presentate all'organo UNESCO e l'organo UNESCO ovviamente può accettarlo tante volte rimanda finché non è sicuro di andare a tutelare qualcosa di veramente importante a livello globale e poi un'altra forma diciamo di punizione diciamo tra virgolette che può mettere in atto l'UNESCO è quello del cancellare dalla lista una volta entrati nella lista non si è sicuri di rimanerci qualche anno fa per esempio è successo in una riserva naturale mi pare dell'Oman dell'Oman non so bene dove è l'accento che è stato appunto escluso dalla lista di tutela dell'UNESCO ecco perché in quell'area è stata costruita una diga che è andata a rovinare in un certo senso le caratteristiche di quell'area protetta oppure un'altra situazione diciamo simpatica tra virgolette qualche anno fa è stata quella per quanto riguarda il Cremlino il Cremlino è uno dei monumenti che fa parte appunto di questa lista e Putin aveva dichiarato di volerlo ampliare ampliare perché aveva bisogno di più spazio per il governo russo e l'ONU aveva ammonito Putin dicendo appunto che se fosse intervenuto con questi ampliamenti sarebbe stato cancellato il Cremlino fra i monumenti tutelati quindi è semplicemente una questione di prestigio cioè si cerca di rientrare all'interno di quella lista e non uscirne di restarci il più tempo possibile in fondo sì diciamo che essenzialmente è questo anche per quelle che sono le evidenti ripercussioni economiche perché se hai detto che immediatamente si ha un incremento del 30% delle attività legate al turismo rispetto a un determinato bene protetto dall'UNESCO ovviamente poi uscirne fuori potrebbe portare delle conseguenze negative quindi c'è tutto l'interesse immagino da parte delle realtà valorizzate dall'UNESCO di rimanere tali sì 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 aumento economico è anche però un aumento culturale in un certo senso perché più attenzione vuol dire anche più studi da parte degli storici, degli storici dell'arte e di quel determinato bene poi c'è anche da dire che l'UNESCO è l'istituto più importante anche a livello di legislazione e di tutela perché è quello che diciamo cerca in un certo senso di unificare la legislazione di tutela dei beni culturali a livello mondiale questo è un grosso problema soprattutto per noi facenti parte dell'Unione Europea non c'è in Unione Europea una tutela, una legislazione di tutela dei beni culturali comunitaria ma diciamo ogni Stato fa un po' come gli pare ci si sta avvicinando negli ultimi anni con dei decreti delle leggi di tutela del paesaggio che appunto viene forse visto in maniera più facile come qualcosa di tutti ma purtroppo ancora non c'è qualcosa di veramente comunitario delle leggi veramente dell'Unione Europea per quanto riguarda la tutela dei beni culturali invece l'UNESCO ci si è mosso diciamo fin da subito, fin dalla sua fondazione in questo diciamo senso globale di proteggere i beni culturali nello stesso modo in tutto il mondo posso aggiungere che nel 2020 l'UNESCO ha speso circa 370 milioni di dollari a favore di più di 1900 progetti in circa 171 paesi in tutto il mondo quindi una gran parte del mondo sì sì infatti è proprio quello che dicevo io l'importanza dell'UNESCO è proprio questo quello di abbracciare l'intero pianeta, tutti gli stati e in questo grandissimo abbraccio a questo punto direi che possiamo più o meno chiudere la puntata perché mi sembra che abbiamo un po' spaziato su tutto quello che è il discorso del bene culturale sotto tanti punti di vista e sotto tante sfaccettature allora sì avrei ancora tanto da dire ma capisco che poi la puntata diventerebbe di due ore quindi chiudiamo qui e vi saluto alle prossime puntate sì prima di chiudere del tutto ricordiamo che nelle note dell'episodio troverete come al solito dei link per approfondire e i link anche per seguirci sui social network e per ascoltarci sulle varie piattaforme alle quali si è recentemente aggiunta anche YouTube per ultimo vorrei rimarcare anche che da questa puntata la programmazione andrà ogni due settimane e non più ogni settimana quindi ciao a tutti e alla prossima puntata grazie a tutti ciao grazie dell'ascolto alla prossima puntata ciao